C'è stata una frana ieri nella zona di Montorio che nuovamente testimonia le condizioni della nostra viabilità. Ovviamente è passato anche un anno da quella di Ponzano. Lei che analisi può fare di questa situazione? Sì, sicuramente gli ultimi eventi atmosferici hanno dimostrato la fragilità del nostro territorio. Adesso stiamo pagando purtroppo la cattiva manutenzione fatta negli anni e quindi ci dobbiamo tutti rimboccare le maniche affinché questi eventi non succedano più e comunque possano essere prevenuti per evitare danni all'incomunità pubblica. Io a Campli ho diverse frane quindi conosco benissimo le problematiche. Voglio ricordare quella di Pastinella, quella di Padule e su tutti quella di Castelnuovo che ha comportato 120 evacuati. Tutte le parti in causa, le istituzioni pertanto devono impegnare somme per questo rischio ideologico, logicamente anche col supporto degli enti sovraordinati, provincia, regione e governo affinché appunto si risolvano i problemi esistenti e si prevengano ulteriori danni. Le elezioni hanno decretato il crollo del Partito Democratico, una situazione che avrà riverberi anche sul territorio abruzzese. Qual è anche in questo caso la sua analisi? Sì, bisogna dare atto del voto e del risultato che ha premiato i 5 Stelle e diciamo anche la Lega. Tra l'altro io sono un esponente della Lega in Abruzzo, ho stato il primo sindaco a aver aderito a questo partito. Un risultato molto importante, Salvini è diventato il leader del centro-destra e anche in provincia di Teramo la Lega di Salvini ha superato Forza Italia. Adesso ci accingiamo a preparare ed arrivare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali che sono appunto le amministrative e le regionali. Stiamo sul punto giusto però bisogna ancora lavorare e continuare su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi.